La prima sera è stata per me, sono fatto in casa, ho messo la mia... E' che fuori del babo qui? E' un po' tra l'unico. Lo stringo, se non lo stai facendo, e lo stai dicendo. Però abbiamo già mandato già, il signore ha già mandato video su... Grazie. 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 Ok, sì, sì. Cos'è quello strumento? La lira? Cos'è? No. No. Questo si chiama chitarra portoghese. Ah. Ma non l'ho costruita io, eh? No. Sì. È uno strumento tipico portoghese. Lo so loro, lo so loro. E. Sperso, ma questo, eh? Cos'è? only 3 chords! E's G, ok. And then D, minor. And then D, A, D, A. De pronto, eh? Oh no, ma come... Ok, questo è il corso, ok? Ok, questo è il corso. La altra parte, non lo so in inglese. È il corso. Dopo il corso. Ok, ok. Questa è la quinta e di sé qua. Noi, ok. Questa è il corso. Questa è un corso. Sì. L'è un corso. Questa è un corso. E questo è un corso. Questa è un corso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.